Anche il Movimento 5 Stelle di Fano ha il suo candidato sindaco ufficiale, si tratta di Adar Omiccioli, attuale consigliere comunale del Movimento di Beppe Grillo. Lo abbiamo incontrato oggi pomeriggio. Oggi abbiamo comunicato alla cittadinanza che è stata formalizzata la scelta di Adar Omiccioli come candidato sindaco del Movimento 5 Stelle fanese. Parlo di formalizzazione, non di scelta perché la scelta vera e propria l'abbiamo fatta 4 anni fa, un paio di mesi prima delle scorse elezioni amministrative abbiamo scelto Adar come capolista perché abbiamo riconosciuto in lui delle qualità umane e personali che lo rendevano adatto a ricoprire questo compito. Oggi dopo 4 anni Omiccioli è stato in consiglio comunale come consigliere, è stato membro della commissione bilancio e quindi ha l'esperienza adatta e giusta secondo noi per ricoprire questo incarico importantissimo per la nostra città. Il bello di questa avventura è il fatto che il nostro gruppo di persone del Movimento 5 Stelle che mi appoggia e ne sono veramente contento è un gruppo pieno di competenze e questo ci dà una grande forza, tanto che ci siamo organizzati in gruppi di lavoro per sviscerare tutti i punti del nostro programma, le 5 stelle, quindi il bilancio, le attività produttive, i servizi sociali, l'urbanistica e il turismo. Questi punti, che saranno anche i nostri punti programmatici, verranno esportati se vogliamo da questo punto di vista in tutta la città in un tour cittadino che inizieremo da novembre fino ad aprile dove verranno invitati i parlamentari 5 Stelle che attraverso le loro competenze, le loro esperienze porteranno un tema nazionale, livello nazionale che comunque si intersecerà benissimo con un tema appunto del nostro programma. Questa sinergia sarà messa a confronto con le idee della cittadinanza che parteciperà a questi incontri. Penso che tutti abbiano capito che un'epoca di sviluppo della nostra città, della nostra nazione a questo punto è finita quindi bisognerà riaffrontare i problemi con un'altra ottica, con nazioni magari più piccole ma mirate ed efficaci e questo lo faremo tramite due vie principali, la partecipazione dei cittadini anche nelle decisioni del bilancio che renderemo assolutamente comprensibili a tutti e dove alcuni capitoli potranno essere anche discussi con i cittadini e l'altra via è quella della riappropriazione degli strumenti che il Comune stesso ha, una valorizzazione delle professionalità dei dipendenti comunali che saranno messe al servizio di alcune attività come ad esempio il turismo come la capacità di prendere soldi attraverso bandi europei e di dare lavoro anche attraverso piccoli bandi per la riqualificazione della città. Quindi insomma una serie di interventi che il Comune stesso riuscirà a fare. Non aspettiamo soldi o un lavoro a livelli nazionali possa essere calato dall'alto. Ci impegneremo, rimboccheremo le nostre maniche proprio per far sì che invece questa possibilità di dare lavoro alla città venga dallo stesso Comune. Gli strumenti ci sono, saranno piccoli passi ma che daranno un respiro e un sollievo se vogliamo.